Buon pomeriggio dalla redazione di Telemolise, dunque ultima ora prima della chiusura dei seggi, si vota fino alle 15 in tutta la regione, nei 393 seggi allestiti per le elezioni regionali, subito dopo inizierà lo scrutinio che seguiremo in diretta ovviamente qui su Telemolise con la nostra lunga maratona elettorale che comincerà appunto alle 15. Iniziamo adesso un rapido giro di collegamenti con alcune delle nostre postazioni che sono su tutto il territorio regionale, parlando soprattutto del drastico calo dell'affluenza alle urne che si sta registrando praticamente ovunque. Partiamo dalla sala stampa di queste regionali che è stata allestita al Palazzo della Fondazione Molise Cultura di Campobasso, dove per noi c'è Pasquale Di Bello. Vediamo se è pronto il collegamento. Ecco Pasquale. Allora, dicevamo affluenza alle urne in forte calo. Pasquale? Sì Enzo, si registra questo dato anche se nei grandi centri qui a Campobasso l'affluenza si attesta sul 50%. Consideriamo che nella scorsa tornata elettorale nel 2018 l'affluenza complessiva in regione fu del 52% e 16%. Votarono circa 160.000 persone. Ripeto, 50% può essere considerato il dato medio regionale, ma solo per quello che riguarda i grandi centri. Affluenza invece in forte calo nei paesi. Vedremo poi alle 15 quale sarà il dato definitivo. Si chiude e quindi cala il sipario sulla dodicesima legislatura. Il Molise saluta Donato Thomas, saluta i 20 inquilini di Palazzo da Immo. Sapremo questa notte chi sarà il nuovo presidente della regione e i nuovi legislatori regionali. L'affluenza ieri sera era del 34%, quindi c'è stato un leggero recupero. Consideriamo anche questo dato dei 327.000 aventi diritto al voto, il 30% sono residenti all'estero. Ripeto, quindi dato per i grandi centri intorno al 50%, in calo invece per quello che riguarda i paesi. Grazie, grazie a Pasquale Di Bello per questo collegamento dalla sala stampa della regione. Da Campobasso invece andiamo adesso a Disernia per vedere come va il voto in quella città, in quella provincia. Ci colleghiamo da uno dei seggi della città dove c'è Enrico De Simone. Enrico, vediamo se è pronto il collegamento in questo caso. Così vediamo. Eccolo qua, lo vedo collegato. Sì Enzo, siamo collegati dal seggio del liceo Cuoco di Isernia, uno dei seggi più grandi, numerosi di questa città. L'affluenza alle 23, ultimo dato ufficiale rilasciato qui a Isernia, era pari al 38%, ma noi abbiamo raccolto dei dati tra le sezioni e l'affluenza in questi ultimi minuti dovrebbe aggirarsi intorno al 47-48%. Con me c'è anche un ospite perché c'è stata qualche eccezione. C'è Cinzia Arazzante, presidente di seggio. Da voi, nella vostra sezione, come è andata? Qual è l'affluenza? Finora l'affluenza è stata del 52%. Abbiamo notato un aumento dei votanti oggi, nella mattinata di oggi, rispetto a quella di ieri. L'afflusso comunque è stato regolare durante tutto il tempo. Lo svolgimento anche. Ecco, Enzo, ricordiamo il numero di aventi diritto al voto qui a Isernia, è pari a 19.194 elettori, di cui 2.262 sono residenti all'estero. Il termine del voto è fissato alle 15, quindi avremo poi il dato ufficiale a breve. Prima di chiudere il corregamento, una curiosità che arriva da Cerro a Volturno. Il signor Gennarino Martino, dovremmo vedere anche una foto adesso in diretta, si è recato alle urne all'età di 102 anni, autonomamente. 102 anni, tra l'altro, compiuti proprio oggi. Oggi è il suo compleanno, quindi da tutta Telemolise al signor Gennarino i migliori auguri. Enzo, con questa curiosità chiudiamo. Se non hai altre domande, ti restituisco la linea. No, grazie, grazie Enrico, complimenti all'elettore centenario. Dunque, adesso invece andiamo a Termoli, da Andrea Nasillo. Andrea, dici come sta andando l'affluenza a Termoli sulla costa? Vediamo il collegamento. Un attimo solo. Un attimo che perfezioniamo il collegamento da Termoli, per vedere come sta andando in città il voto. Anche lì l'affluenza è in calo, lo diciamo subito, ma quello è un dato che, insomma, accomuna tutta la regione, seppure con sfumature diverse. Abbiamo visto meno accentuato nelle grandi città, più consistente nei piccoli centri. Mi dite se c'è il collegamento, altrimenti andiamo avanti e poi magari torniamo su Termoli. No, allora probabilmente possiamo andare alla raccolta dati? Sì, allora ci colleghiamo intanto con Piacentino Salati, perché vi dico che quest'anno abbiamo una raccolta dati automoma qui a Telemolise dai seggi, quindi contiamo di darvi i risultati in anticipo rispetto a quelli ufficiali. Lo faremo appunto con questa raccolta dati autonoma che verrà seguita da Piacentino Salati, che adesso ci spiega tutto. Piacentino. Lo vedevo, Piacentino, pronto un attimo fa? Forse adesso non ci sente. Pronto Enzo? Sì, a te Piacentino, a te la linea. Un attimo solo, è che stiamo perfezionando il collegamento e poi sentiamo, vi diamo qualche informazione sulla raccolta dati autonoma, con la quale seguiremo lo scrutinio durante il pomeriggio, diciamo a partire dalle 15, con la nostra lunga diretta elettorale. Allora, sentiamo solo la voce, non è pronto il collegamento. Allora, mandiamo il servizio proprio sulla lunga diretta elettorale, e vi presentiamo la lunga maratona che sarà condotta dalle 15 dal direttore di Telemolise e poi facciamo quest'altro giro di collegamenti. Il servizio. Inizierà subito dopo la chiusura dei seggi la diretta elettorale di Telemolise, alle 15 in punto, e come di consueto andrà avanti fino alla vittoria del nuovo presidente della regione, fino alla composizione del Consiglio regionale. A condurre in studio il direttore Emanuela Petescia, insieme a Giovanni Di Tota, in compagnia di tanti ospiti che commenteranno via via i risultati dello spoglio. Numerose le dirette in campo da ogni angolo della regione, Telemolise schiera infatti, come sempre, tutte le squadre giornalistiche e tutte le troupe per garantire l'informazione più completa possibile. Sono previsti collegamenti in diretta con la gilla di Campobasso, dove è allestita la sala stampa, con la sede di Gennaro Niro per la raccolta dati autonoma e quindi più veloce di quella ufficiale, con i seggi elettorali e con il quartiere generale dei partiti e dei tre candidati alla carica di presidente. L'attesa del risultato finale sarà allietata anche da momenti di intrattenimento musicale, curato dal pianista Simone Sala ed è in programma anche uno spazio dedicato agli amanti degli animali. Telemolise proporrà infatti uno speciale viaggio in Molise, questa volta varcando la soglia del canile di Santo Stefano per trasmettere i video dei nostri amici a quattro zampe e sollecitare la loro adozione. Ne mancheranno gli scherzi a danno, si fa per dire, di candidati a esponenti politici di spicco della campagna elettorale e tante altre sorprese e novità che i telespettatori scopriranno durante la lunga diretta elettorale di Telemolise. La nostra emittente infine accoglierà tutti i cittadini che vorranno intervenire alla trasmissione con contributi, domande e curiosità, una sorta di open day negli studi televisivi di Campobasso. Allora, questa è la nostra diretta che parte alle 15. Adesso vi dicevamo che insomma il piatto forte sarà la raccolta dati autonoma dei dati dei seggi con Piacentino Salati. Ecco, prima sentiamo solo la voce, adesso lo vediamo anche in quadrato, stiamo perfezionando tutti i collegamenti. Piacentino, spiegaci in che cosa consiste questo lavoro che farete nel pomeriggio. Sì, Enzo, grazie. Ovviamente, come hai detto tu, stavamo perfezionando il collegamento. Ci siamo, siamo pronti, abbiamo allestito unitamente ovviamente alla raccolta ufficiale che farà capo alla Regione Molise per queste elezioni regionali. Una raccolta dati autonoma che anticipa, deve anticipare sostanzialmente i tempi perché avremo degli inviati nei vari seggi che raccoglieranno ovviamente i voti, dei candidati presidenti perché partiremo da lì salvo poi ad approfondire le preferenze, i voti di lista e le preferenze dei singoli candidati nella lista per poter dare immediatamente un quadro ufficioso anche se non ufficiale che però arriva sostanzialmente direttamente dai voti che vengono raccolti ai seggi dai delegati e che vengono qui raccolti per cui noi gireremo immediatamente sia in grafica sia con contributi in diretta i risultati parziali e progressivi dello scrutinio così come vengono raccolti direttamente ai seggi chiaramente il momento è anticipato perché poi gli stessi dati verranno trasmessi ufficialmente al comune che li comunerà alla regione i vari comuni comunicheranno alla regione ma ci vorrà diciamo un po' più di tempo rispetto a quello che cercheremo di fare da qui proprio per dare un quadro complessivo e più immediato immediato della situazione Enzo Grazie 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 a Piacentino Salati adesso cambiamo argomento poi nella parte finale del Tg torneremo a parlare delle regionali con altri collegamenti le altre notizie del giorno la cronaca oggi sono cominciate le prove orali agli esami di maturità interessati i 2500 studenti molisani ce ne parla Anna Maria Di Matteo Dopo le due prove scritte che si sono svolte il 21 e il 22 giugno oggi è la volta di quelle orali si apre così la seconda e l'ultima fase degli esami di maturità per 2500 studenti molisani il colloquio che riguarda anche l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è in chiave multi e interdisciplinare la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo culturale e professionale dello studente prendere il via da uno spunto iniziale che può essere un'immagine un breve testo un video scelto dalla commissione è la fase dell'esame in cui valorizzare il percorso formativo e di crescita le competenze e la capacità dello studente di elaborare i temi più significativi di ciascuna disciplina nell'ambito del colloquio il candidato espone con una breve relazione o un elaborato multimediale l'esperienza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento svolto nel percorso degli studi la commissione d'esame tiene conto delle informazioni inserite nel curriculum dello studente e nello scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 40 punti 12 punti per il terzo anno 13 per il quarto e 15 per il quinto anno la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico il voto finale dell'esame di stato espresso in centesimi così suddivisi massimo 40 punti per il credito scolastico massimo 20 per il primo scritto massimo 20 punti per il secondo scritto massimo 20 punti per il colloquio la commissione può assegnare fino a 5 punti di bonus per chi ne ha diritto dalla somma di tutti questi punti risulta il voto finale dell'esame il punteggio massimo è di 100 con la possibilità della lode il punteggio minimo per superare l'esame di 60 centesimi sentivano da giorni un cattivo odore provenire dall'appartamento accanto e del proprietario nessuna traccia i vicini insospettiti hanno allertato i soccorsi i vigili del fuoco e i grabinieri hanno fatto eruzione nell'appartamento di via Po a Termoli trovando un uomo di 52 anni senza vita a quanto pare era morto da giorni viveva da solo le ipotesi sono quelle di un malore o di un gesto volontario da Torino rimostranze a Stellantis per la scelta di fare la Gigafactory proprio a Termoli anziché nella fabbrica di Mirafiori il caso è finito addirittura in consiglio comunale sentiamo Andrea Nasillo La scelta di costruire la Gigafactory Stellantis a Termoli nell'impianto di rivolta del Re e non in quello storico di Mirafiori non va proprio giù alla realtà piemontese tanto che in consiglio comunale a Torino è stata presentata una mozione da una consigliera di maggioranza Alice Ravinale del gruppo di sinistra ecologista nel testo della mozione di fatto è chiara la contrarietà sulla scelta di Stellantis in merito alla Gigafactory a Torino scrive la Ravinale la situazione causata dal progressivo disinvestimento di Stellantis nella nostra città e la mancanza di adeguate politiche industriali da parte dei governi nazionali appare particolarmente preoccupante anche a seguito della decisione di Stellantis dell'estate del 2021 di realizzare la propria Gigafactory italiana a Termoli invece che a Mirafiori lo stabilimento di Mirafiori cuore della produzione automobilistica di Torino è da tempo sottoutilizzato scrive la Ravinale la consigliera comunale cita i numeri tra aree vuote lavoratori in cassa integrazione e poi in calza tornando alla fabbrica di batterie in particolare l'area di Mirafiori può essere valorizzata sia per la produzione di veicoli elettrici che per produzioni funzionali alla nuova propulsione elettrica il sapere e le competenze tecniche accumulate da molti anni possono rendere il Piemonte attrattivo per la produzione di nuove autovetture da parte di altri soggetti interessati con la mozione la Ravinale impegna Sindaco e Giunta a fare pressing al governo evidenziando le preoccupazioni per le sorti dell'industria dell'auto di Torino e del Piemonte chiedendo che vengano avviate politiche industriali anche sulla scorta di quanto viene attuato in altri paesi europei proposto anche l'avvio di un rapporto costante con le parti sociali con le istituzioni con Stellantis e con le organizzazioni sindacali per identificare un piano di rilancio di Mirafiori e il riferimento all'elettrico è sempre chiaro a Termoli devono quindi essere vigili e con occhi e orecchie spalancati furto in chiesa a Trivento è accaduto alla parrocchia di Santa Croce nel pieno centro abitato i ladri dopo essere entrati nel luogo di culto hanno forzato una cassetta utilizzata per la raccolta fondi a favore della Caritas portando via i soldi che erano al suo interno e che erano donazioni dei fedeli prima di fuggire vi hanno rubato anche una chitarra utilizzata dal colo della chiesa in corso le indagini l'amore che cura questo è il titolo del convegno organizzato a Isernia per parlare del tema dei disturbi alimentari bulimia e anoressia sono infatti sempre più frequenti soprattutto dopo il covid ce ne parla Valeria Migliore parlare dei disturbi alimentari per far capire a chi ne soffre che può guarire con questo obiettivo è stato organizzato a Isernia il convegno dal titolo l'amore che cura al quale hanno partecipato anche psicologi ed esperti che si sono confrontati sui primi segnali da cogliere per aiutare chi entra nel buio vortice dell'anoressia o della bulimia l'incontro è stato dedicato alla dottoressa Ernestina D'Alessio scomparsa prematuramente lo scorso dicembre che ha contribuito alla fondazione della Siridap società italiana di prevenzione e riabilitazione dei disturbi alimentari i numeri sono altissimi in Italia sono circa 3 milioni di persone in Molise sono 5 mila persone ammalate di disturbi alimentari di tutte le fasce di età quindi è molto importante costruire strutture specializzate perché invece ancora forse nel Molise c'è un po' di scarsità e quindi le persone sono costrette a uscire dalla regione il Ministero della Salute ha stanziato un grande fondo di 25 milioni per tutte le regioni anche il Molise quindi con quei fondi potremo fare delle cose importanti il convegno è stato voluto dal consigliere comunale Alex Paniccia figlio della dottoressa D'Alessio che ha voluto così portare avanti l'impegno della madre speriamo che possa essere il primo passo di tutta una serie di attività da mettere a terra e da rimettere a terra sul territorio e che possano fungere in un certo senso da start point per l'attivazione di servizi connessi alla prevenzione e alla salute di un disturbo che è quello del comportamento alimentare che spesso si associa solo con l'anoressia o la bulimia ma anche altre forme diverse e adesso parliamo dei saldi che in Molise inizieranno il 6 luglio e termineranno il 31 agosto mentre i consumatori aspettano la data per fare gli acquisti la Fismo e la Confesercenti hanno scritto al presidente della conferenza delle regioni Federica per chiedere uno slittamento al 21 luglio il maltempo delle ultime settimane infatti non ha favorito le vendite sentiamo Marta Martino luglio si avvicina insieme alla data dei saldi estivi che in Molise sono stati fissati dal 6 luglio al 31 agosto promozioni più o meno vantaggiose vestiti, scarpe e prodotti tecnologici in sconto attireranno chi ha aspettato proprio questo periodo dell'anno per fare i suoi acquisti sperando nel buon affare magari proprio prima di partire per le vacanze sconti che non riguarderanno solo i negozi fisici ma anche quelli online quest'anno però le associazioni di categoria sollevano qualche perplessità in particolare la Confesercenti che aveva chiesto lo slittamento dell'inizio dei saldi dal 6 al 21 luglio per una motivazione precisa le avverse condizioni meteo degli ultimi mesi potrebbero influire quest'anno sulle vendite promozionali la Fismo federazione dei negozi di moda di Confesercenti in una lettera a Massimiliano Fedriga presidente della conferenza Stato-Regioni spiega le sue motivazioni per il rinvio aprile e maggio sono stati caratterizzati da maltempo e temperature al di sotto della media e giugno ha visto piogge e temperature alta allenanti tutto ciò non ha favorito i negozi scrive la Fismo perché le vendite non sono andate finora molto bene data la situazione precaria e incerta del tempo che non ha invogliato i clienti ad acquistare capi estivi tra aprile e giugno per cui ora si rischia che i negozi con l'arrivo degli imminenti saldi estivi debbano abbassare i prezzi su un intero magazzino estivo senza aver avuto la possibilità di vendere quasi nulla ad un prezzo normale motivazioni che dal punto di vista del venditore possono anche essere ritenute valide ma mentre si attende la decisione la data dei saldi resta fissata al 6 luglio bene adesso torniamo a parlare delle elezioni regionali come vi anticipavamo nella prima parte del nostro telegiornale ci colleghiamo di nuovo con la sala stampa del palazzo della fondazione Molise Cultura con Pasquale Di Bello lo vedo nel monitor per sapere insomma quali tempi si prevedono per questo pomeriggio elettorale Pasquale vediamo se lo vedo nel monitor così facciamo quest'ultimo collegamento prima di chiudere il telegiornale e poi vi rimandiamo alla diretta che partirà tra mezz'ora in concomitanza con la chiusura dei seggi probabilmente non mi sente Pasquale Di Bello allora do un paio di notizie e poi proviamo a ricollegarci domani alle 9.30 presso le aule di formazione di Via D'Amato a Campobasso l'RT ASSE l'assistenza e lavoro cooperativa sociale rientrante nel consorzio Magma Sociale ha organizzato il convegno maternità consapevole IST malattie sessualmente trasmissibili il convegno formativo informativo sdoppiato in due turni nasce dalla volontà di mettere a corrente i beneficiari e tutta la comunità della presenza ancora attuale delle malattie sessualmente trasmissibili e come affrontare in maniera consapevole la maternità ancora prima del concepimento bene adesso il collegamento c'è vedo Pasquale nel monitor vediamo se mi sente probabilmente abbiamo ancora qualche problema da perfezionare soprattutto sull'audio se mi date un cenno dalla regia vediamo se riusciamo a fare questo collegamento un po' travagliato altrimenti ci avviamo alla chiusura del nostro telegiornale Pasquale ci sente stavolta niente allora non ce la facciamo probabilmente c'è un problema ancora sull'audio con questo collegamento quindi chiudiamo con un appello per un cane l'appello per una femmina che si chiama Lara la vedete in questa foto che si è smarrita sabato da Contrada Colle Arso a Campobasso è dotata di microchip chiunque l'avesse trovata o ne avesse notizie come sempre può contattare la nostra redazione bene è tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi lascio alle notizie sportive noi ci rivediamo subito dopo per la lunga maratona elettorale condotta dal direttore Emanuele Apetesce a partire dalle 15 per tutto il pomeriggio e probabilmente anche per tutta la notte qui su Telemonisi a più tardi